La sindaca, insomma lì siamo nell'ambito della politica, sicuramente ha un grande coraggio e le auguro di tenere duro soprattutto, io sono una sua sostenitrice e so che l'impresa non è facile. Diciamo che Misia è più un personaggio romantico, più della letteratura, più della musica. Oggi potrebbe essere più una rock star. Devo dire che una nostra, tipo Madonna, potremmo una come Madonna che dice di votare per l'Ilari facendo delle provocazioni così forti. Un'altra Misia, come vi stavo dicendo prima, è la nostra Marina Lia, questa donna che ci ha sostenuto con la sua fondazione e l'ha fatto perché ha un bambino, ha cresciuto? Un bambino down che si chiama Bolli, un bambino straordinario che sa Misia a memoria, ormai perché siamo andati anche a casa sua a farlo, lei ha un circo a casa e sostiene questo ragazzo e tutti i ragazzi che hanno dei problemi di questo tipo con l'arte e quindi con spettacoli, balletti, concerti eccetera.